Credo che è un buon professionista, vero che rispetta la maglia quando uno dà tutto, non quando uno la cambia. Poi siamo umani, due tornate a casa sua, c'è un aspetto economico importante, ci sono migliaia di cose. La domanda è se mi sarebbe piaciuto tenerlo, sì, notevolmente per chiudere un ciclo di lavoro di un giocatore. Credo che in un anno abbia fatto grande esperienza e che abbia fatto tanto. Però anche da come poi ve l'ho riportato dai giornali e dai titoli che spesso magari non corrispondono proprio alle parole dette dentro. Io ho sempre avuto un'idea, quando guardo il calcio, quando guardo il basket, che per me è uno che tiene alla maglia e fino a che ha un contratto dà tutto quello che deve avere per quella maglia. Poi dopo siamo professionisti, la carriera di un giocatore, ancora più di un allenatore, oddio, l'allenatore non sta tanto in più in società perché lo cacciano solitamente. Finalmente funziona così perché quando si perde, si perde sempre lo scemo e sempre l'allenatore. Però a prescindere da quello, soprattutto la carriera di un giocatore è abbastanza breve perché poi alla fine gli infortuni, l'età che avanza, questo atletismo esasperato di questo palacanestro che ogni giorno vede in campo degli atleti maggiori, quindi sono tutte scelte molto rispettabili. A me è fatto molto piacere quando Riccardo se n'è andato, che mi ha chiamato per ringraziare tutto quello che gli avevo dato, per ringraziare tutto quello che gli avevo dato i compagni, Avellino. Quindi lui ha fatto una scelta di vita, la si rispetta ma non credo che ci sia il minimo pensiero di riconoscenza o meno. Ormai il calcio, il basket, lo sport è cambiato, che non vuol dire che è un bene, io sono ancora innamorato di Galli, Tassotti, Maldini, Costa Curta, Franco Baresi e così. Un altro giorno vedevo il Milan, per fortuna qualche italiano dentro ce l'ha, però ne conoscevo pochi di giocatori. Però devo dire che nel bene o nel male è cambiato proprio con questa globalizzazione il pensiero dello sport e quindi fondamentalmente le bandiere esistono meno ed è giusto che ognuno faccia la propria scelta, quindi Riccardo ha fatto.